La presenza del sovrano e di una folla di personalità diplomatiche, scientifiche ed artistiche sono stati solennemente consegnati i premi Nobel per il 1934. Come è noto, i premi per la chimica, la fisiologia e la medicina sono stati assegnati a tre illustri scienziati americani, mentre il premio per la letteratura è stato attribuito al drammaturgo accademico d'Italia Luigi Tirandello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.